Scippava gli smartphone dalle mani dei passanti mentre erano al telefono al centro direzionale di Napoli. Un giovane egiziano di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri per furto con strappo. Ad inchiodarlo le telecamere di videosorveglianza, monitorato dalle guardie giurate, che hanno assistito in diretta allo scippo i danni di una donna ed hanno avvisato i carabinieri. Il giovane era poi fuggito per le scale mobili che portano in un parcheggio. I carabinieri lo hanno bloccato nei dintorni del centro, in piazza Salerno. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il giorno prima, sempre al centro direzionale, un'altra donna era rimasta vittima di un furto con modalità identiche.